Giovedì 2 aprile, San Francesco di Paola. È il 92esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 273 alla fine. Il sole sorge alle 6.51, tramontra ai 19.42. La luna si leva alle 17.55, tramonta alle 5.50. Un grave scandalo scoppia nel monastero della Celestia a Castello. Tra due suore, sembra per motivi di gelosia, scoppia un grave alterco durante il quale le due si feriscono mortalmente. Durante le indagini si scopre che diverse suore del convento, tutte di famiglie patrizie, sono in stato interessante. Le previsioni per domani. Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali, nuvolosità irregolare, in intensificazione ed estensione. Precipitazioni, generalmente assenti, salvo lieve aumento a fine giornata della probabilità di qualche modesto fenomeno. Temperature, minimi in aumento, massime in calo.